Facendo seguito al video di una decina di giorni fa nella quale elencavo i miei 12 titoli azionari da dividendo italiani preferiti e in seguito alle votazioni quella più votata tra le small cap italiane è stata IREN. Quindi oggi andiamo ad analizzare insieme IREN per quanto riguarda i suoi dividendi la sua solidità aziendale e la sua attenzione al green, quindi attenzione ai nuovi processi di energia pulita e di attenzione comunque a un'economia verde e sostenibile. IREN per chi non lo sapesse è già presente nel mio portafoglio con un peso di circa il 2% per la precisione ai prezzi attuali, un peso percentuale del 2,03 all'interno del mio portafoglio e andremo a vedere se può essere una di quelle azioni che mi aiuteranno a raggiungere il mio obiettivo di pensionamento a 50 anni. Per chi non conoscesse IREN la presentiamo rapidamente, è una utility italiana, quindi una società per azioni italiane operante, quali molti servizi, quindi si occupa di produzione e distribuzione di energia elettrica, servizi di teleriscaldamento di cui tra l'altro è il maggior operatore italiano e in altri servizi di pubblica utilità come ad esempio anche la gestione dei rifiuti, del gas, dell'ambiente in generale e anche dell'acqua. IREN è nata nel 2010 dalla fusione tra Iride che aveva riunito le municipalizzate di Torino e Genova e Enea che a sua volta riuniva le municipalizzate di Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Ovviamente è quotata sul Fuzzi Italia mid cap. Andiamo avanti, possiamo vedere anche sul sito di IREN come IREN sia stata inclusa dal CDP nella Climate Change A List ed è stata inserita tra le otto aziende italiane virtuose nella lotta al cambiamento climatico. Quindi diciamo un ottimo e utilissimo riconoscimento per IREN. L'azionariato di IREN possiamo vedere è sostanzialmente per metà riservato ai vari comuni di Genova, Torino, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, la Spezia e altri vari e per l'altra metà all'incirca è flottante quindi quotato sul mercato azionario. Partiamo quindi con l'analisi dell'azione. Mi raccomando un bel like a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e partiamo quindi con l'analisi del bilancio, dei dividendi e di tutti i numeri di questa azienda. Allora per chi non lo sapesse inoltre ricordiamo che i pilastri strategici di IREN sono quindi una combinazione di macro trend di settore, quindi una certa attenzione alle risorse sostenibili, attenzione alla transizione energetica, un ruolo centrale del cliente, una rivoluzione tecnologica, il consolidamento all'interno del settore, pilastri strategici, quindi una crescita, sostenibilità dal punto di vista ambientale, sempre il cliente al centro dei pensieri aziendali, perché chiaramente il cliente deve essere coccolato, perché la concorrenza è tanta e bisogna comunque trattare bene il cliente in questo settore. Una attenzione alla digitalizzazione. Io tra l'altro abito nella zona dove IREN alla fine la fa da padrona, posso dire che sono stati anche recentemente cambiati i contatori della luce, del gas all'insegna di una digitalizzazione veramente estrema, quindi una avanguardia dal punto di vista tecnologico. Un'attenzione alle persone, persone intese come i propri dipendenti, quindi insomma una ricerca di rispettare anche quei criteri ISG, quindi ambiente, sociale e governance, evoluzione tecnologica, ne abbiamo già detto, ed efficienza, le nuove ambizioni, espansione nazionale, perché in questo momento opera poche altro nel nord e nord-ovest dell'Italia, un'attenzione alla multi-circle economy, quindi parliamo anche comunque di gestione circolare ad esempio dei rifiuti che da semplice spazzatura, possiamo dire, diventa anche energia, energia chiaramente pulita alla fin fine, che è quello che dovrebbe rappresentare il futuro nel settore energetico. Rafforzamento della resilienza, cosa vuol dire questa cosa in particolare? Allora IREN ce lo spiega, dice che la pandemia scoppiata nel corso del 2020 ha evidenziato la resilienza del modello di business del gruppo IREN anche di fronte a forti turbolenze in attese. Quindi la ricerca di un modello sostenibile che possa portare comunque una stabilità dei ricavi e degli utili in qualsiasi condizione di mercato. Passiamo adesso a vedere proprio i numeri dell'azione. Allora, al momento in cui sto girando il video, domenica 7 febbraio, il titolo IREN sta quotando 2,13€, o meglio venerdì scorso, ha chiuso a 2,13€. Possiamo vedere come negli ultimi 52 settimane si sia mosso all'interno di un range tra l'1,70€ e i 3,13€. Quindi possiamo dire che sia più vicino al minimo che al massimo dell'ultimo anno. quindi potrebbe anche far intravedere una possibile sottovalutazione del titolo. Ovviamente non bisogna basarsi unicamente su questo dato. Il rapporto prezzo utili è comunque abbastanza interessante soprattutto se confrontato al resto del mercato, 13,81€. Il dividend yield, ovvero il dividendo offerto a questi prezzi e calcolato sul dividendo dell'anno scorso è di oltre il 4%, 4,34%. Possiamo andare avanti e vedere come l'utile per azione, che negli ultimi anni si è attestato a circa 18-19 centesimi per azione, copra abbondantemente il dividendo distribuito, che è di 8 centesimi nel 2019, 9 centesimi nel 2020 ed è previsto anche in leggero aumento nei prossimi anni come da previsione del management stesso. Quindi un payout attorno al 50% mette ampiamente al riparo il dividendo anche per i prossimi anni. Il ROE è di circa il 10%, quindi niente di eccezionale, ma adesso vedremo più nello specifico. Vediamo come il margine industriale nel corso degli anni, dal 2015 al 2019, quando abbiamo avuto i dati dell'intero anno, poi aspetteremo quelli del 2020, si è attestato attorno a un 33-38% più o meno in questo range, abbastanza stabile nel tempo. Il margine operativo, anch'esso in un range tra l'11 e il 15%, niente di eclatante, però per quanto riguarda il settore non è neanche male. Stesso discorso per il ROE, che ha passato però da un 2015, in cui aveva un ROE di 6,59 al 2019 con un ROE del 10,58%, quindi lascia ben sperare questo aumento che c'è stato negli ultimi anni. Vediamo poi sotto il punto di vista del conto economico, vediamo come c'è stata una bellissima crescita dei ricavi netti. Secondo me questa qui è una bellissima storia, dal 2015 al 2019 una crescita continua dei ricavi da 3 miliardi e 55 milioni a 4 miliardi e 236 milioni. L'utile netto, anch'esso, è praticamente raddoppiato nel giro di 4 anni da 118 milioni a 236 milioni. Molto molto interessante questa cosa. Possiamo vedere sotto il punto di vista invece dello stato patrimoniale come la liquidità, quindi la cassa a disposizione della società IREN, anch'essa è aumentata gradatamente nel tempo passando dai 139 milioni a 345 milioni del 2019, un aumento anche delle immobilizzazioni materiali nette da 2 miliardi e 9 a 3 miliardi di 6. Quindi vuol dire che comunque l'azienda sta investendo, ci sta mettendo denaro per aumentare comunque la propria capacità produttiva, la propria capacità di generare reddito. Sul fronte opposto però chiaramente se investo per forza di cose devo anche aumentare il debito. In particolare vediamo come i debiti a breve termine sono tutto sommato abbastanza sotto controllo, anche nel 2019 sono addirittura diminuiti rispetto al 2018. I debiti a lungo termine invece sono aumentati, anche se non in maniera preoccupante, da 2 miliardi e 6 a 3 miliardi, in maniera abbastanza graduale e possiamo vedere come il patrimonio netto sia comunque inferiore ai debiti a lungo termine, quindi possiamo dire che il rapporto fra debiti a lungo termine e patrimonio netto è circa dell'1,3 all'incirca. Insomma neanche malaccio essendo una utility, sappiamo che le utility spesso hanno debiti abbastanza importanti. Possiamo vedere poi come i dividendi distribuiti nel corso degli anni siano in crescita da 81 milioni a 150 milioni dal 2015 al 2019 e siano ampiamente coperti anche semplicemente dal flusso di cassa. Lo vediamo proprio nell'ultima riga, ad esempio nel 2019 il flusso di cassa di 200 milioni di euro ha coperto i 150 di dividendi, ma negli anni passati abbiamo avuto anche addirittura flussi di cassa ben più importanti. Perché nel 2019 è così basso? Perché sono aumentati comunque i soldi investiti, quindi il capitale investito dall'azienda. Mi piace sottolineare questa cosa perché Iran sta comunque investendo parecchio negli ultimi anni proprio per crescere, per diventare più tecnologica, più digitale e per aumentare comunque la propria presenza in tutta Italia. Passiamo alla storia dei dividendi. C'è stato un pochino una svolta dal 2011 in avanti, abbiamo visto poi che Iran è nata dalla fusione di tante altre municipalizzate, insomma possiamo dire che Iran è nata nel 2010, dal 2012, ovvero dai dividendi che fanno riferimento in realtà all'utile del 2011 è iniziata un po' una storia diversa. Una storia fatta di crescita dei dividendi che sono passati da un centesimo distribuiti nel 2012 fino ai nove centesimi distribuiti nel 2020 con graduali piccole crescite o comunque con ferme negli anni un pochino più difficili. Quindi secondo me è un'ottima storia di distribuzione dei dividendi per quanto riguarda gli utili registrati dal 2011 in avanti. Allora, questa è un po' l'analisi dell'azione Iran. Come abbiamo detto, è presente nel mio portafoglio per una quota di circa il 2%, quindi insomma una quota abbastanza rilevante all'interno del portafoglio trattandoci comunque di un'azienda di medie dimensioni italiana, però un'azienda sulla quale insomma punto abbastanza comunque per la sua capacità di generare flusso di cassa, per la sua capacità di generare utili, per la sua capacità di distribuire dividendi costanti e in aumento nel tempo. Tra l'altro è inserita nel mio conto peer, quindi i dividendi arrivano anche netti. Penso di avere detto un pochino tutto. Aspetto comunque i vostri commenti e ditemi pure la vostra. Ditemi se ce l'avete in portafoglio, se vi interessa acquistarla e qual è magari il prezzo alla quale vi piacerebbe inserire in portafoglio quest'azione. Commentate quindi e se volete mi trovate anche sugli altri canali social. Un saluto a tutti da Lorenzo, a presto e ciao! Grazie!